E dicevo, il problema della burocrazia nel paese è sicuramente enorme, è sicuramente enorme. E un po' le norme sono state fatte per un'autoalimentarsi della burocrazia. Un po' penso, guardi, lo dico quindi senza interesse, anche in buona fede, per contrastare chi si comporta male e chi vuole fare il furbo. Ma il risultato però qual è stato? Che chi fa il furbo, anzi, vive dentro questi inghippi. Chi si comporta destramente è massacrato. È massacrato la burocrazia. Allora, io dico, invece di, noi non vogliamo solo lamentarci. Io dico, facciamo una proposta, facciamo una legislatura che invece di fare le norme spot, le norme per ogni cosa, ogni articolo di cronaca viene fatta la norma, la legge, facciamo una norma di spurocratizzazione del paese, semplifichiamo. E facciamo come in altri paesi europei. Io vengo da Trieste, confino con la Slovenia. In Slovenia è molto più facile aprire un'impresa, mettere sul bar, aprire il pubblico esercizio. Molto più facile. Però, chi sbaglia, paga veramente. Noi dobbiamo facilitare le cose, ma chi sbaglia finisce veramente in galera. Non è che il giorno dopo è libero e si comporta esattamente come prima.